Ciao a tutti da Vicefocus anche questa settimana e ci ritroviamo qui con i 10 video da discoteca che vi presenterò i più ballati di ogni settimana qui su VivaTV naturalmente poi vi aspetto nei commenti su vari portali social i 10 video che andremo a vedere si susseguiranno senza interruzioni e noi poi ci rivediamo dopo la posizione numero 1 ogni settimana avremo sempre una prima posizione nuova e dopo di che estrarremo dal passato un video per Viva Old ma intanto partiamo con Viva Last Week, la posizione più ballata e più alta della scorsa settimana nella Club Rotation Dance Chart e era Armin Van Buren, David Guetta con In The Dark video uscito a luglio con già milioni di stream due DJ uniti tra i più grandi nomi della scena elettronica mondiale dell'ultimo decennio che insieme a Aldi, il cantante, sono riusciti a realizzare questo video all'ushuaia di Ibiza himno cantato alla fede è un amore che vince su tutto andiamocela a vedere e noi ci ritroviamo dopo la prima posizione e noi ci ritroviamo dopo la prima posizione e noi ci ritroviamo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti